Pietra è il mio nome Pietra è il mio nome Potevano essere molti di più Possiamo assistere attraverso la carta 4-5 omicidi Ma tutti ben congegnati E che portano poi a un mistero unico C'è un giardiniere? No però se vuole lo posso ammazzare quando volete Grazie a Lorenzo Beccati Alla prossima Grazie a voi Sempre all'ascolto e alla visione